Una buona notizia per il comune di Ardesio e per il comune di Premolo dal bando per i piccoli comuni. Un progetto presentato insieme ha trovato il suo finanziamento. È proprio una notizia fresca e quindi una grande soddisfazione. Sì, 2680 domande, 144 solamente i comuni o le associazioni di comuni finanziati e noi siamo arrivati ai undicesimi. Assieme all'amico Marseghezzi, sindaco di Premolo, è una grande soddisfazione per questo progetto che riguarda due interventi significativi, uno a Premolo e uno ad Ardesio. Per quanto riguarda Ardesio è questo grande sogno di sistemazione dello stabile che ospita attualmente gli ambulatori comunali, dove ci sono due o tre ambulatori utilizzabili, ma un grande spazio che riqualificato porterà fino alla disponibilità di cinque locali, più una segreteria per fare uno studio associato e quindi darà la disponibilità ad accettare e ad accogliere i medici che fortunatamente ad Ardesio continuiamo ad avere in buon numero. Non ci speravamo, questo è il dato di fatto, non ci speravamo perché su 2800 e passa domande di riuscire anche solo ad essere in graduatoria, visto anche i tanti esclusi e oltre ai non finanziati, è stato davvero un grande colpo. Debo ringraziare però la Giunta che ci ha creduto e ha posto questo come uno degli obiettivi di mandato più importanti, oltre al parco giochi appena realizzato e devo ringraziare la struttura tecnica, in questo caso la dottoressa Fanchini che ha avuto l'ardire di seguire me e il collega Seghezzi di Premolo nella descrizione, nella narrazione di questo progetto per renderlo davvero credibile come in effetti è e per renderlo così da premiare, undicesimo su 144 premiati, ma ripeto su 2800 e passa domande. Ecco, qual è l'obiettivo di questo progetto per Ardesio oltre agli ambulatori medici che abbiamo detto? Ma come dicevo la riqualificazione dei locali serve prioritariamente agli attuali medici e in prospettiva al fatto che si possa aggiungere anche qualche altro medico di medicina generale per soddisfare un'utenza che in questo momento ha una carenza importante di medici di base. In prospettiva quei locali potrebbero essere usati anche appunto come studio associato che possa coinvolgere anche altre figure professionali specialistiche per consulti in loco o ad esempio come già richiesto alla SST la possibilità di instaurare un primo avamposto, se possiamo chiamare in questo modo, per un servizio ad esempio anche di telemedicina. Questo potrebbe essere appunto un altro dei servizi al quale potersi affidare, ma già il fatto che ci possa essere gli spazi perché un insieme di medici e medicina di generale possano instaurare uno studio specialistico associato è già un grande risultato. Ricordiamo gli importi? Allora complessivamente il contributo è di super al milione di euro, suddiviso circa poco meno di 500 mila euro per il comune di Ardesio e qualcosina di più di 500 mila euro per il comune di Premolo.